Buongiorno, benvenuti. Ben trovati, appuntamento con Mattino 6 di mercoledì 8 agosto 2018, la nostra consueta rassegna stampa, la lettura dei quotidiani che troverete oggi in edicola. Partiamo come di consueto dalle prime pagine dei giornali abruzzesi, siamo al centro, l'edizione di Pescara, vedete il titolo di apertura, riguarda il gran caldo, due morti nelle ultime ore in provincia di Pescara. La Falestelle provoca vittime a Montesilvano e Città Sant'Angelo, persone anziane già alle prese con diverse patologie. E poi andiamo nella parte alta della pagina per parlare di politica regionale, consiglio regionale che si è chiuso ieri sera, tarda ora, legge elettorale. I sindaci non saranno costretti a dimettersi, dunque c'è stato questo passo indietro della maggioranza. E poi ancora agricoltura, vedete, troppo caldo, problemi per allevatori e apicoltori. E poi caro pedaggi, sull'A24 e A25 si va verso l'occupazione dei caselli, i primi cittadini dei centri interessati proprio dalla presenza dei caselli delle due autostrade, sono sul piede di guerra. Vediamo poi con questa fotonotizia una bella storia che arriva da Montesilvano, Federica e Michele Sposi, più forti della distrofia. Nelle cronache, vedete di spalla, smog Pescara, sei comuni pronti a fermare i motori diesel, le sei comuni sono appunto il capoluogo adriatico, Montesilvano, Spoltore, Francavilla, Città Sant'Angelo, San Giovanni, Teatino. E poi a Francavilla niente stipendi, il cimitero resta senza servizi. Poi la cronaca, torniamo a Pescara, titolare d'albergo pestato e rapinato, due banditi fanno irruzione di notte all'Hotel California e fugono con 5.000 euro in basso. Vedete un altro titolo, il giovane chef conquista Londra, Stefano Camplone, 24 anni, si fa largo con i piatti pescaresi e oggi riceverà il premio Dean Martin. Lasciamo la pagina del centro edizione di Pescara, andiamo a vedere quella di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, corteo sotto l'edificio pericolante. L'Aquila a 20 giorni dalla perdonanza, l'altra faccia di Collemaggio. E poi vedete a centro pagina, i giovani in pellegrinaggio fanno tappa a Onna in attesa di incontrare il Papa, il Vescovo di Sulmona, Valva, Monsignor Michele Fusco, nella foto con alcuni giovani pellegrini. Ci spostiamo ad Avezzano, Confcommercio dice sì all'isola fuori dal centro, Sulmona a fine della giostra, Piazza Garibaldi riapre al mercato. Proseguiamo con la prima pagina del centro, edizione di Teramo, muore a 35 anni, tecnico di basket, Roseto evangelista stroncato da una malattia, insegnava educazione fisica. Vediamo anche nelle cronache di spalla, discarica di Teramo, inquinamento indagato tecnico del comune, Giulianova Porto, bufera per l'assunzione politica. E poi vediamo a centro pagina, Alba Adriatica, 80 mila persone in festa per il carnevale estivo. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di Chieti, Lanciano, Vasto, strisce blu, scontro sulla gestione. Chieti, il consiglio dà i parcheggi a teatro e servizi, blu parking, stangata in arrivo. Da Chieti ci spostiamo a Francavilla, stipendi non pagati, sciopero al cimitero, i 5 perai senza stipendio da mesi che lavorano nel cimitero di Francavilla al mare, li vedete in questa foto. Poi vediamo la cronaca, andiamo a Vasto, spaccio di droga e sparo nel locale, 5 arresti. E poi a 85 anni, anziano sparito, fraine in ansia per Antonio Rossi. E poi a Chieti, vediamo quest'altro titolo, raccolta fondi per il piccolo Dennis, al bimbo è stato diagnosticato l'autismo e il papà ha perduto il lavoro. A San Salvo, più in basso, Pilkington, stop a 120 esuberi, dal governo 100 milioni, sì, a un anno di cassa integrazione. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano Il Messaggero nel suo inserto d'Abruzzo, ritirata la legge elettorale, la discussione sulle regole di voto, parliamo ovviamente del Consiglio regionale di ieri all'Aquila, dura un giorno intero, alla fine la giunta si arrende, slitta nella notte il dibattito su Nuova Pescara, l'Aquila a capoluogo e trasporto pubblico. Vi dicevo che si è chiusa tardissimo la seduta di ieri in Consiglio regionale. Vediamo poi altre notizie nella prima pagina del inserto Abruzzo del Messaggero. Aiuole senza cura, pericoli e degrado, una savana lungo la riviera di Pescara e poi guerra contro il caro Pedaggi. I sindaci pronti a presidiare i caselli autostradali. E poi Marsinel, una lezione di civiltà dopo l'orrore. Questo è l'articolo di approfondimento della prima del Messaggero Abruzzo. La strage in miniera fece crescere l'attenzione alla sicurezza sul lavoro. Vediamo in basso l'emergenza, caldo africano, morti, sospette in provincia di Pescara. Vediamo poi in alto quattro passi del pop per la musica di Ferragosto. E poi calcio, l'Aquila riparte da Pensi e De Paulis dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie D. E poi Serie B, Pescara, Rischio Scamacca, il giocatore, verso lo Spezia. Vediamo anche la prima pagina, questa è la prima pagina di cronaca regionale del quotidiano della città della provincia di Teramo. che parla proprio della rinuncia alla riforma politica che era stata presentata dal centro-sinistra. La soglia di sbarramento non sarà innalzata all'8%, decisiva la contrarietà di Mazzocca e della sclocco. E dunque tutto resterà com'è, ma poi come detto in nottata si è parlato molto e si è discusso molto anche di altre cose in consiglio regionale che si è chiuso davvero a tardissima ora per parlare della nuova Pescara, di L'Aquila, Capoluogo e anche di altre questioni. Allora lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, possiamo andare a vedere invece l'edicola nazionale con le prime pagine dei giornali nazionali appunto che oggi sono in edicola. Partiamo con il Corriere della Sera, sono 35 mila i tir a rischio. Si parla di quanto accaduto del robo di Bologna di due giorni fa, è stata riaperta l'A14, l'inchiesta forse un colpo di sonno dell'autista della cisterna. Il ministro Toninelli ha riferito ieri in Parlamento guida assistita per ridurre gli incidenti. Nuovo ponte tra cinque mesi e poi in alto vedete scritte antimedici, scontro sui vaccini, la ministra Grillo, nessuna coercizione. E poi vediamo più in basso, continuano ad arrivare successi per il nuoto italiano, impresa quadarella agli europei, 1500 stile libero, un altro oro per Simona. Sono forte, lo merito, ha detto dopo questo splendido risultato l'atleta azzurra. Siamo al quotidiano La Repubblica, Fico siamo diversi da Salvini, Nolatav vie legali ai migranti, l'intervista del Presidente della Camera, passa il DL lavoro, la polemica del Nord-Est, solo danni. Dunque decreto legge che riguarda il lavoro passa in Parlamento. Poi vediamo la foto del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha inasprito le sanzioni contro l'Iran ed è stato chiaro in un messaggio che non si presta sicuramente ad alcun equivoco, o con gli USA o con l'Iran, da Trump il via alle sanzioni, le sanzioni più dure per l'Iran negli ultimi anni. E poi la tragedia di Foggia dopo la strage, le aziende rifiutano i fondi pubblici, ricatto del caporalato, vietati i pulmini regolari. Vediamo anche la prima pagina del messaggero nazionale, pensioni si accerra su quota 100 e poi solo il rigore sui migranti può evitare nuovi schiavi. Questo è l'approfondimento di prima pagina. E poi vediamo un'altra notizia che riguarda proprio la tragedia, la strage sulle strade del Foggiano contro il caporalato droni sui campi. Foggia, ecco la stretta, Salvini e Conte dopo il doppio incidente dei braccianti svuoteremo i loro ghetti. E poi vedete la foto di quello che è rimasto del cavalcavia dopo l'esplosione dell'altro giorno sull'A14, cinque mesi per ricostruire ipotesi colpo di sonno per lo schianto. Vediamo il fatto quotidiano in alto, caporalato, legge col buco, gli schiavi più convenienti. E poi attacco al colle, bolle di sapone, scrive il fatto quotidiano. Sul caso Savona il Quirinale su Twitter aveva il 79% di consensi, più dissensi su Facebook. Gli esperti sui tweet dei troll anonimi, non più russi, contro Mattarella. Vediamo anche il quotidiano libero. Il Parlamento lavora da 36 a 42 minuti al D. Onorevoli e Senatori Fannulloni, Casaleggio vuole aborire le Camere, i deputati si portano avanti, presenziando il meno possibile. L'attività legislativa costa al contribuente 1.000 euro al secondo, passate 5 leggi su 1.004 proposte. Vediamo anche più in basso. Martina si accorge soltanto ora che i braccianti sono sfruttati, ma è stato Ministro dell'Agricoltura per 4 anni, l'esponente del Partito Democratico. E poi un altro titolo, depositi bancari non movimentati, l'ennesimo furto ai cittadini, lo Stato ruba 2 miliardi dai conti correnti, scrive sempre Libero. Siamo al mattino di Napoli, caporalato la legge flop, questo è il titolo di apertura, Salvini droni sui campi e poi pace fiscale per riformare le pensioni, manovra le risorse dalla sanatoria, decreto dignità via libera dal Senato. E poi il calcio, siamo sul quotidiano napoletano e dunque si parla del Napoli. Ancelotti riscatto in tuta, il Napoli è un'altra squadra dopo la pesante sconfitta con il Liverpool, i campani hanno battuto il Borussia con il risultato di 3 a 1. Siamo al manifesto, in alto il titolo che riguarda l'estensione dei voucher che è legge, il Senato da via libera, definitivo, al decreto dignità. E poi vedete la raccolta degli schiavi, questa foto con questo titolo, 4 euro lordi per 300 kg di pomodori e la paga dei braccianti schiavi di Foggia, un'azienda agricola su due, è illegale. Dopo la doppia strage la Procura apre un'inchiesta sul caporalato, il governo fa promesse, oggi manifestazione di migranti e sindacati. Siamo alla stampa di Torino, parte l'assalto alle pensioni d'oro, si del Senato al decreto di Maio, il governo affossa il piano periferie da 2 miliardi di gentiloni, il premier Conte affoggia fra i braccianti, dietro la strage c'è sfruttamento. Svuoteremo i ghetti, ha detto il Presidente del Consiglio. E poi vediamo un titolo che non abbiamo visto sugli altri quotidiani, la sfida delle donne argentine, vedete in questa manifestazione, vogliamo l'aborto legale. E poi in basso, Bologna, la strage evitata in 7 minuti, l'autista si è distratto, escluso il sonno. Dunque si continua ad indagare per capire quali possono essere state le cause di questo incidente. Siamo al tempo, stangata grillina tutto gas, quanto ci costa il no al TAP, col gas d'otto bollette più leggere fino al 10%, ma per i 5 stelle vengono prima i veti verdi. E così, addio risparmio, titola il tempo, siamo al quotidiano la verità. Chi critica Mammarella, questo è il titolo di apertura, rischia 20 anni di galera. Attentato alla libertà del Presidente, l'ipotesi di reato della Procura di Roma nei confronti di chi ha attaccato su Twitter la decisione del Colle di sillurare Savona, prevede una pena altissima. A Palermo altre 4 persone sono indagate pure per istigazione a delinquere. Poi vedete se gli schiavi del pomodoro muoiono è colpa del sistema delle coppe, vedete questa foto con il titolo del quotidiano La Verità. E poi più in basso, trovato un miliardo per gli sbancati, il tesoretto recuperato dai conti dormienti sarà a disposizione del governo a partire dal mese di novembre. Siamo al quotidiano della conferenza episcopale italiana, Di Maio l'Europa cambi linea sui conti, uno stop all'azzardo, abbiamo sconfitto la lobby. E poi caporalato, promessi aiuti alle imprese oneste. Lasciamo dunque l'edicola nazionale con Venire che era l'ultimo quotidiano che abbiamo preso in esame. Torniamo al centro, ripartiamo da pagina 2, gli effetti del meteo, in questo caso del caldo, delle ultime ore che affossa gli allevatori, crisi della zootecnia e della produzione di miele, meno il 50%. Le piogge aiutano le colture del fucino, per il momento la produzione di ortaggi non risente dei capricci del tempo. Ma, vedete in basso, gli apicoltori dissentono, buona annata, 20 associazioni, disastro fino allo scorso anno, nel 2018 le cose vanno meglio. Dunque non c'è una uniformità di vedute sulla questione miele nella nostra regione. Parliamo di politica regionale, il consiglio regionale di ieri all'Aquila, ultimo atto, vedete il titolo. Legge elettorale, i sindacati non saranno costretti a dimettersi, i pettinari del Movimento 5 Stelle canta vittoria, volevano solo pelanizzarci. D'Alfonso annuncia, lascio la regione, opto per il Senato, l'aveva detto già due giorni fa. Il voto dovrebbe tenersi a questo punto a primavera per una questione di costi, urla e strepiti per tutta la giornata in commissione, prima di arrivare ad una quadra delle varie posizioni. Mariani, esponente del PD, dice, resto convinto che alzare la soglia sia giusto. Sospiri di Forza Italia, la norma consente l'accesso in consiglio ai partiti. E poi vediamo in basso un altro commento della consigliera del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, Nessere Mestre Bianco, nessuna modifica elettorale. Ed è stata ritirata dopo le audizioni in commissione la legge urbanistica, ma zocca, rimasti inascoltati, portatori di interesse generale. Ancora una pagina che riguarda la cronaca regionale, i sindaci, occuperemo i caselli autostradali. La protesta per il caroperaggi, vertice nel comune di Carsoli, mercoledì 19 settembre, previsto anche un sit-in davanti al Ministero dei Trasporti. E poi si parla invece di fermo pesca, blocco dal 13 agosto al 23 settembre, di Giuseppe Antonio. Un errore, il fermo pesca in piena estate, dice il sindaco di Fossacesia. Vediamo poi in basso altri due titoli, gli studi dell'Enea, inondazioni in livello del mare sotto controllo, laboratorio galleggiante in mare, in Abruzzo a rischio Pescara, Martinsicuro e Fossacesia. E poi, previsione sismica, la senatrice Pezzopane dice gravissima scelta, la soppressione di casa Italia. Siamo alle cronache dalle province, partiamo da Pescara, albergatore picchiato, legato e derubato, viale Primo Vere, zona sud della città, finisce in ospedale il proprietario dell'hotel California, aggredito da due banditi, con un cacciavite bottino di 5 mila euro. E poi, colto da infarto mentre lavora, il titolare del bar della Borsa si sente male e batte la testa, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara. Ancora cronaca, c'è la proprietaria in casa, ladri in fuga via Cesare Battisti, le due giovani riprese dalle telecamere della palazzina somigliano alla coppia che era stata ripresa a Montesilvano. E a proposito di controlli da parte delle forze dell'ordine e in questo caso della Polizia Municipale, vigili in servizio 24 ore su 24, un piano per ampliare i turni. L'assessore alla Polizia Municipale del Comune di Pescara, Gianni Teodoro, replica ai sindacati e poi controlli sul lungo fiume in moto senza patente, giovane denunciato. Andiamo avanti con un'altra pagina che riguarda sempre Pescara, il piano contro l'inquinamento, stop ai diesel in sei comuni, se lo smog supera i limiti, va in consiglio l'intesa tra i sindaci dell'area metropolitana raggiunta a febbraio. Riscaldamenti più bassi e limiti al traffico in caso di superamento delle polveri. Pronto un elenco di misure da adottare per fronteggiare l'emergenza dopo quattro giorni con le polveri a livelli molto alti. E poi una notizia che riguarda le periferie, anche la periferia di Pescara perché il governo blocca 18 milioni per le periferie congelati per due anni fondi che Pescara doveva ricevere per riqualificare case e strade in cinque rioni. A tal proposito questa mattina alle 11 si terrà una conferenza stampa in comune a Pescara proprio per parlare di questa questione. E poi in lutto la Fraternita della Misericordia di Pescara per la scomparsa di Milagros Rodriguez. Proseguiamo con un'altra pagina che riguarda Pescara. Si parla di rafforzamento degli organici alla procura di Pescara. Ci sono quattro nuovi magistrati. Arrivano quattro nuovi magistrati. Si tratta dei pubblici ministeri Luca Sciarretta, Andrea Di Giovanni, Marina Tommolini e Fabiana Rapino. Ma dopo Barbara Del Bono, Mirvana Di Serio e Gennaro Varone lascia Pescara anche Valentina D'Agostino. Dunque diversi avvicendamenti in procura a Pescara. Vediamo altre notizie, altri titoli. Riconoscimento alla carriera al maestro Pasquale Veleno, il premio dei direttori corali. E poi i piloti pescaresi sulle orme del Vate. Volo su Vienna oggi prima delle due giornate che vedranno le celebrazioni per il ricordo a 100 anni di distanza del volo di Gabriele D'Annunzio su Vienna. E poi i dodi battaglia incontra i fan domani a Lido Beach prima del concerto che terrà a Pescara nell'ambito delle manifestazioni di estatica. E noi parliamo di talenti pescaresi, in questo caso di Stefano, il giovane chef che piace tanto agli inglesi, campone diplomato all'alberghiero, in finale a Londra al concorso Michelin. Vediamo poi in basso Pescara che sbarca in Asia perché la pizza tonda di Trieste arriva anche in Vietnam. Siamo a Montesilvano per parlare dell'AFA da record, il caldo che ha provocato due vittime che sono un 62enne di Montesilvano e un 88enne di città Sant'Angelo, entrambi con problemi di salute. E poi temperatura in calo da lunedì, dice l'esperto Giovanni De Palma. Caldo che continua comunque a interessare non solo tutto il Paese ma anche tutta l'Europa. Siamo a Montesilvano, cambiamo argomento, tributi riscuoterà il Comune, il nuovo regolamento prevede l'ingiunzione fiscale e la rateizzazione. La storia, questa bella storia che arriva da Montesilvano con Federico e Michela, il nostro amore più forte della malattia, a lui affetto da distrofia muscolare, lei psicologa, si sono sposati in Comune. E oggi la festa con un altro sì. Vediamo in basso due notizie che riguardano due eventi, cappelle sul tavo con ride e pupe e la festa dell'estate. A Elice invece è iniziata la notte dell'Ilex. Proseguiamo con la pagina che riguarda Francavilla al mare, i lavoratori del cimitero in sciopero. Da oggi non saranno garantiti la pulizia, i servizi e le tumulazioni. Vogliamo gli stipendi non pagati. E poi ancora Francavilla, piazza Ionio in festa con Duccio in basso. San Buceto Calcio, precisa, non facciamo politica. La società Viola risponde a Marinucci sull'aumento delle tariffe degli impianti. Manoppello ricorda la tragedia di Marsinella, 61 anni, delegazione del Comune nella miniera dove persero la vita 60 abruzzesi. E poi Penne. La provincia chiede 650 mila euro per il restauro dell'antica cappella, l'opera di Palazzo d'Esterlich. E poi Vicoli, festa di San Rocco, il 16 e 17 agosto nell'antico borgo del piccolo centro in provincia di Pescara. Lasciamo la cronaca di Pescara e provincia dell'area metropolitana. Ci spostiamo a Chieti sempre dalle pagine del centro. Parliamo di parcheggi a pagamento. Strice Blu, scontro sulla nuova gestione stangata in città. Blu Parking, boccia la scelta di dare l'attività a teatro e servizi. Marco Tullio, 500 mila euro di oneri in più. Il Comune, sono utili. E poi l'allarme del Movimento 5 Stelle con il cambio di società, meno servizi per i residenti. E in consiglio a Chieti torna al voto anche la contestata tassa di soggiorno. E poi, sempre a Chieti, parte la raccolta di fondi per le cure di Dennis. Autismo Abruzzo lancia l'appello per il piccolo disturbo appena diagnosticato. Il papà è senza lavoro. Siamo ancora ad una pagina della cronaca di Chieti e provincia. Pestato e rapinato in centro davanti alle telecamere. Chieti carabinieri hanno ascoltato i testimoni che erano in via Spaventra. Non si escude che si tratti di un episodio legato a questioni di droga. A Fraine, sparisce da casa, tutto il paese cerca Zio Antonio. E poi a Torrevecchia, Teatina, acqua di Fogna nei campi. Scatta l'inchiesta. Da Torrevecchia ci spostiamo a Lanciano, nella parte bassa della pagina. Sostauto concorso per ausiliari. Lanciano nel passaggio dal privato ad Anaxanum. Confermati solo tre contratti su quattro. Lasciamo questa pagina. Vediamo la prossima, sempre che riguarda la provincia di Chieti. Tiro esploso. Torna la paura a GPL al porto di Ortona. Il comitato cittadino lancia l'allarme sull'impianto di stoccaggio del gas. Il progetto, si parla del progetto del deposito costiero. E poi a Rocca San Giovanni, Cantina Frentana al traguardo dei 60 anni, la Coppa di Romanelli fa festa con il Cardinale Menichelli ed il Vescovo Cipollone. Andiamo a vedere un'altra pagina che riguarda in questo caso Vasto. Poi tra qualche istante andremo a vedere anche il primo servizio perché c'è lo scacco alla centrale dello spaccio. Droga blitz a Vasto e San Salvo. 5 arresti della Polizia di Stato, sequestrate 500 dosi di cocaina ed eroine, 7 mila euro in banconote. Due cani poliziotto scovano gli stupefacenti e poi lo sparo contro il Little Pet ha fatto scattare l'inchiesta. Allora possiamo andare a vedere il primo servizio proprio su questa operazione della Polizia di Stato a Vasto. Vediamo il servizio curato da Alfredo Primante. E' partita dall'esplosione di un colpo d'arma da fuoco contro il negozio Little Pet di Corso Mazzini a Vasto, avvenuta il 7 ottobre 2016, l'indagine denominata Clean Shirt che ha portato all'arresto di 5 persone per i reati a vario titolo di spaccio e porto abusivo d'armi. Secondo le indagini del commissariato di Vasto, Cristina Spada, Achille De Rosa, Mirco Di Giacomo, Piero Di Carlo ed una quinta persona arrestata questa mattina in flagranza di reato erano personalità di spicco della criminalità locale. Le due centrali dello spaccio erano situate nelle abitazioni di Spada e di De Rosa. Stamattina a San Salvo i cani antidroga Arteon e Chetti hanno permesso di rinvenire 500 dosi che avrebbero fruttato sul mercato ben 35.000 euro per la cocaina e 25.000 per l'eroina. Nella perquisizione sono stati trovati anche 7.000 euro in contanti. Secondo il commissario Fabio Capaldo, il colpo d'arma da fuoco contro l'attività di Corso Mazzini era riconducibile ad una questione personale di Carlo e Di Giacomo. Nell'aprile scorso invece erano già stati denunciati per detenzione di materiale esplodente. In auto avevano una bomba carta artigianale che secondo gli inquirenti sarebbe servita per altri attentati in città. Vediamo ora un titolo. Prima di fermarci per qualche istante, un altro titolo che riguarda l'occupazione, la Pilkington di San Salvo, congelati, vedete il titolo dell'articolo a fondo pagina, congelati 120 licenziamenti, dal governo 100 milioni di euro concessa per un anno la Cassa Integrazione Inderego. Allora possiamo fermarci, andiamo in pausa, andiamo a vedere anche le previsioni del tempo, poi torneremo in studio come sempre per la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo in studio, siamo nella seconda parte di Mattino 6, pagina di Teramo del centro, il caso Latore, vedete il titolo di apertura, discarica, indagato il tecnico del Comune. E poi Giuliano Vaporto, bufera per un'assunzione politica. E poi cronaca giudiziaria, tifoso morto per overdose, chiesto il processo, l'inchiesta di rinvio a giudizio per l'uomo accusato di aver venduto la dose fatale a Valerio Giannobile. E poi in basso si parla delle bellezze del Teramano, stranieri conquistati dai casolari. Teramani sono tanti quelli che li comprano a tratti dal paesaggio, dal clima e dalla cucina. E c'è anche chi si trasferisce in provincia di Teramo. Al Badriatica, vedete il titolo a tutta pagina. Carnevale, 80.000 persone in festa. Sul lungomare sfila il corteo di carri e maschere aperto dal sindaco Casciotti. Rimosse numerose auto dal percorso. Siamo alla prima pagina della provincia di Teramo. Pineto è sicuro, il nuovo ponte sul Calvano replica al Movimento 5 Stelle che ha avanzato dei dubbi accusando anche il sindaco Cantoro. Analisi idraulica ok, con l'audo in corso perché l'opera non è finita. A Silvi la Castrum 2010 riparte con un progetto ambizioso, il progetto del presidente Vito Partipilo. E poi ad Atri si celebra l'unione fra musica classica e arte con il festival Duchi d'Acquaviva. E mostre la notizia della scomparsa di un allenatore di basket a 35 anni. Si tratta di Antonio Evangelista stroncato da una malattia, insegnava educazione fisica, scomparso a Roseto. Questo pomeriggio si terranno i funerali. Sempre a Roseto, Guardia Medica 118, Casa Rosa sarà pronta entro l'anno. E poi a Roseto, concerto con tutti i posti riservati, proteste, le 400 sedie per l'esibizione di Barbarossa destinate solo ad autorità e sponsor pubblico. In piedi in basso si parla di politica in questo articolo, si allarga il gruppo consigliare di Roseto protagonista, entrano Marini e l'ex segretario PD Felicioni. Andiamo a vedere un'altra pagina, siamo alla pagina dell'Aquila, sempre dal centro, prosegue il dibattito in città, legge l'Aquila a capoluogo, ruolo guida consolidato, per alcuni l'avvio della fase di risanamento della ferita aperta nel 71. e c'è chi rimarca la mancanza nel tempo di una forte rappresentanza politica. E poi, comune capofila nella gestione dei fondi, come funziona la norma, 900 mila euro all'anno, tra le novità l'istituzionalizzazione della perdonanza celestiniana. E proprio per quanto concerne la perdonanza, mancano 20 giorni all'avvio di questo importante evento. Il degrado è l'altra faccia di Collemaggio, le vedete nelle foto. E poi lo scempio, l'ex betrotrofio destinato a casa delle donne. E poi i giovani in cammino fanno tappa a Onna, è partito il pellegrinaggio diretto al santuario di San Gabriele, in attesa dell'incontro a Roma con Papa Francesco. Nella foto vedete anche il vescovo della diocesi di Sulmona Valva, Michele Fusco. E il Rotary restaura Piazzetta Nove Martiri, la Presidente Iannarelli, siamo sempre all'Aquila. Fontane e Statua torneranno al loro posto il 23 settembre, dopo la conclusione dei lavori. Siamo alla pagina di Sulmona, tribunale grave deficit di personale. Nardella della Wille scrive al Ministro per sollecitare la copertura dei posti in organico. E poi allarme incendi, vertice in prefettura. Il sindaco di Sulmona Casini chiede un tavolo tecnico. E poi ad Avezzano, ci spostiamo nella Marsica, isola pedonale solo in piazza Torlonia. Donatelli, Presidente Ascom, boccia il progetto delle tre aree pedonali in via Corradini. Ci spostiamo più in basso a Tagliacozzo, zia e nipote sulle orme della musica. Dal Piemonte a Tagliacozzo, sui luoghi di nascita del Trisavolo, direttore della banda. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Dobbiamo invece andare a leggere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Cronaca e politica regionale a pagina 36. C'è l'asse Forza Italia 5 Stelle. La Giunta ritira la legge elettorale. Dibattito fiume sulle regole di voto. La resa dopo gli scontri in Commissione. Nuova Pescara in aula nella notte. Oggi le dimissioni. Di D'Alfonso. E poi in basso la battaglia dei sindaci per i pedaggi. Protesta a Roma. E Caselli. Presidiati. Siamo alla pagina di Pescara del Messaggero. Caus Aiole. Effetto Savana sulla riviera. Le proteste di cittadini, residenti e turisti. E poi l'angelo col bisturi che salva i bambini da Haiti all'Africa. Questa storia di vite esemplari. Con Maria Grazia Andriani. Con uno dei suoi baby pazienti. Vedete nella foto la dottoressa pescarese. I poliziotti vogliono la pistola elettrica. Accelerare i tempi per taser e manette di velcro. Il sindacato all'attacco dopo l'aggressione dell'agente al pronto soccorso. Il 4 West di sabato notte pone anche per gli operatori di pubblica sicurezza il problema della difesa dai violenti. E poi vittime del caldo. Morti un anziano e un cardiopatico. Gravi in ospedale un barista. E poi Angeli del Mare. Malore a bordo della nave da crociera. Passeggero messo in salvo con l'elicottero. E poi il comune tuona contro il governo. Ne parlavamo anche prima. Periferie stop a progetti da 18 milioni. Questa mattina conferenza stampa a Pescara. E poi la musica di Ferragosto con quattro assi del pop. Da domani a 16. Grandi appuntamenti tra Marina di Pescara, Teatro d'Annunzio e Francavilla. Ci saranno Do di Battaglia, Gianna Nannini, Nino D'Angelo e Red Canzian. Tutti super ospiti. E poi vediamo altri titoli. Ragazzi al Teatro Corinflorian, la strana coppia di direttori d'orchestra. E poi Ares Detriana, Gran Serata, Flamenco a Estatica, al Marina di Pescara, al Porto Turistico. E poi il giorno del dolore. I fantasmi di Marsinelli in 262 sagome bianche. Manopelo e gli altri paesi della Maiella ricordano oggi i caduti abruzzesi nella tragedia di Marsinelli nella miniera in Belgio. Siamo alla pagina dell'Aquila, del messaggero. Centinaia di cantieri aperti. La città modello di sicurezza. E poi nuova l'antenna davanti alla chiesa del XII secolo. E poi in basso, con le maggio, l'arcivescovo Petrocchi benedice il pellegrinaggio dei giovani. Una importante iniziativa che avvicina proprio l'appuntamento con la perdonanza celestiniana. E in questura all'Aquila, cambiando argomento, presentati i due nuovi dirigenti della questura aquilana. Andiamo avanti. Parco del Sole, il restyling che divide. Casetta degli Alpini, transennata perché di proprietà regionale, imprudente. L'assessore dell'Aquila dice molto presto, sarà avviata la pulizia del laghetto. E l'altra opera, l'anfiteatro di Pepper, scalda gli animi in rete. E poi collezioni del Museo Nazionale d'Abruzzo. A che punto siamo? Si parla ovviamente di questo importante reperto di arte. E poi a torno in parte, invece, torna la sagra del prosciutto. Proseguiamo, andiamo a vedere un'altra pagina che riguarda la Marsica e la Valle Peligna. Allagamenti in città, problemi e città in tilt. Avezzano, si contano i danni dopo la violenta bomba d'acqua che ha colpito la città. Il circondario, ancora Avezzano, deflusso delle acque, affidiamolo al CAM. Roccaraso, vaccini, tavola rotonda con il pensiero alla piccola Iaia. A Sulmona non siamo stati spinti da odio razziale. Si torna a parlare della vicenda dei giorni scorsi con alcune aggressioni che sono arrivate anche alla ribalta nazionale. E le persone indagate ribadiscono di non essere state spinte, come leggiamo in questo titolo, da odio razziale. Vediamo un altro titolo, in questo caso che arriva ad Avezzano, alla sala Arsa, incontro con le istituzioni, storia e politica. E poi Sulmona, tribunale, rivedere subito l'organico. Di nuovo ad Avezzano, verrecchia la mia opposizione a tutto campo. Proseguiamo con un'altra pagina, quella di Chieti, del messaggero. Nell'area del nascente Mirò spuntano Trivella e Betoniera. Non ci sono i cartelli che annunciano l'avvio dei lavori del centro commerciale. Il WWF ha inviato una segnalazione a Forestale, Genio Civile e Regione. Cronaca, giovane rapinato in centro, ora saltano fuori i testimoni. E poi Consiglio Comunale, affidamento dei parcheggi, prevista battaglia. Torricella Peligna, Cultura, Gionfante, dal 24 al 26 agosto torna l'appuntamento del festival. In basso, Carabinieri, una mostra sulla Grande Guerra. Vedete il titolo, apre al pubblico la caserma di Viarnienze fino al 30 settembre. Iniziativa unica nella nostra regione. Siamo alla pagina di Lanciano Vasto Ortona. Di Fonso, la SPA prorogata fino al 2050. La società di trasporti si sta preparando ad una doppia sfida. Le gare d'appalto per bacini territoriali e la lunga percorrenza. L'azienda assicura ora 6 milioni di chilometraggio annuo con le linee per Roma-Napoli e gli aeroporti della capitale. Ci spostiamo in basso. San Salvo, Ferrari e Porsche chiamano la Pilkingdon per i cristalli delle loro auto superlusso. Ortona, Coletti chiede di completare la bretella del porto. E poi Lanciano, pusher preso con 50 dosi di eroina. In basso, a Vasto e San Salvo, le centrali dello spaccio, sequestrati 60 mila euro di droga. Cinque arresti, abbiamo visto prima il servizio. Siamo alla pagina di Eteramo del messaggero. Metal meccanico, precarietà non sostituita da assunzioni. Il settore industriale conta oltre 200 aziende e ben 10 mila addetti, ma mancano le linee guida. Comune, discarica e sociale. Prove d'intesa, Sindaco e di Stefano. E poi l'incidente alla stazione di Alba Adriatica, donna travolta da treno e grave all'ospedale, è accaduto ieri. E poi scuola in lutto a Roseto, abbiamo visto prima anche dalle colonne del centro. Si è spento a 35 anni il professor evangelista. Tortoreto, Carusi, l'agente consigliere di Sarma, Vucumpra, violento. Siamo arrivati alla pagina di Giulianova, Roseto e Val Vibrata. Partiamo da Giulianova Comune. Il PD chiede un'altra verifica. Ancora Giulianova, cinque impiegati dell'ASL sono pronti a denunciare il senegalese per calugna. Giustini replica sul fruttivendolo supermultato, ma non convince in basso. Ci spostiamo in Val Vibrata. Carnevale estivo, gran successo di pubblico come da tradizione ad Alba Adriatica. Tortoreto, tanti turisti, ma è caccia al parcheggio libero. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine interne del quotidiano La Città. Quagliariello interroga il ministro Grillo. Siamo a pagina cinque. I dubbi sul progetto dell'ASL di Teramo portati all'attenzione del nuovo capo del di Castero Sanità. E poi il truffatore dell'anziano subito alla sbarra. Processo immediato per il napoletano che era girato un settantenne del castello con il trucco del figlio nei guai. Cassonetti intelligenti, ma con cittadini virtuosi davanti alla rivoluzione della raccolta nelle frazioni. La Teramo Ambiente chiede la possibilità di controllare e sanzionare. Pagina 8. Campana si chiama fuori dai civici dalmati. L'addio al gruppo di Di Dalmazio con un sms. Ora pensa ad una società di eventi, ma non rinuncia alla politica. Più posti all'asilo aspettando settembre per la verifica. Si parla di scuole. Dopo l'annuncio della novità, si allunga il brodo delle dichiarazioni tra maggioranza e futuro in. Inferno in biblioteca per i condizionatori guasti. Siamo a Teramo. Si moltiplicano le segnalazioni da parte degli utenti che anche d'estate utilizzano assiduamente la struttura. E poi politica. Di nuovo il sindaco D'Alberto riceve tutti, anche gli oppositori di azione politica. Incontro in municipio con i sostenitori di Rudi di Stefano che presentano le priorità. Fondo sociale, scuole e quartieri. Proseguiamo la pagina della provincia. Più risorse per le manutenzioni stradali. Il Consiglio provinciale approva il rendiconto finanziario con 3 milioni di avanzo per gli investimenti. Siamo alla pagina della Val Vibrata. Postina travolta da un treno in corsa. Teramana di 43 anni ricoverata in condizioni gravissime. La donna è stata colpita mentre era di spalle al binario, ferendosi sul lato sinistro del corpo. Banda della Marmolta, assalti al Bancomat Basisti di Tortoreto presto davanti al magistrato. E siamo a Sant'Egidio alla Vibrata. Revocata l'ordinanza di divieto per il rogo allo sfascio. Nessun riscontro di sostanze nocivinarie sul terreno. Nelle analisi dell'Arta. Pagina di Giulianova e Mociano. Il segretario di Leo assunto all'ente porto è polemica sull'incarico ad persona, ma Costantini attacca il posto a tempo determinato senza evidenza pubblica. In basso, ancora Giulianova. Secondo incontro, la scoperta della fotografia di Com'è profondo il mare. Poi a Mociano, i soldi per le opere utilizzate per gli asfalti elettorali. La consigliera Cianella, l'attacco per le decisioni dell'ultimo consiglio comunale. Siamo a Roseto. Roseto il lutto per la morte del professor Antonio, docente di educazione fisica e allenatore di minibasket. è morto a 35 anni a causa di un male incurabile. Questo pomeriggio si terranno i funerali. Se per Roseto si ricordano della pianta Celommi. Solo quando fa più comodo la critica di Gabriella Parisciani, che da due anni e mezzo si occupa della Polizia dell'Era Verde da sola. e ha sue spese. Siamo ancora a un'altra pagina della provincia di Teramo. Partiamo da Silvi, nuovo polo scolastico a sud di Silvi, tra le idee dell'amministrazione per rimpiazzare le vecchie strutture. E poi di spalla andiamo a Pineto, Planet Funk e Banda Bardot. a Pinetnie Festival in basso. La cronaca Pineto schianto tra tre auto nei pressi del Mercatone 1, due feriti non gravi dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio. Arte e storia alla scoperta delle pitture rupestri di Pietra Camela, proprio in questo caso tra arte, storia e cultura. Possiamo lasciare anche le pagine interne del quotidiano La Città, aprire la pagina sportiva con le tre pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Le prime tre pagine partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Vedete, si parla di Milan e Inter in primo piano. Milan, Baia Coco vicino, prestito dal Chelsea. Inter, verdetto Modric, oggi ci sarà l'incontro con il Real. E poi la notizia che riguarda il nuoto è Simona, la nuova fede. Quadarella, un bis d'oro. E poi una notizia importante, scusate, che riguarda la Serie B, perché per l'Avellino sono finite le speranze di partecipare al prossimo campionato di Serie B. Ieri c'è stato il risponso negativo del ricorso al Tar, ora è corsa contro il tempo per iscriversi nel campionato di Serie D. Vediamo il Corriere dello Sport, Napoli ricompra Milik, Baia Coco per Gattuso e dunque per il Milan. E poi la Roma tenta Pavone, vedete il titolo a centro pagina. Inter, Modric, vede Perez. E chiudiamo con tutto sport. Lampi di Beltoro a Liverpool, Belotti gol, ora date gli zazza. Si parla delle amichevoli di questa estate. E poi Bruno Fernandez racconta il cristiano Ronaldo segreto, fenomeno di umiltà. Lasciamo le prime tre pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Siamo alla pagina del centro che riguarda il Pescara. Il rebus del Pescara riguarda Cocco in questo momento. Resta o va via questa la domanda? L'arrivo di un altro attaccante legato al futuro del giocatore di origine Sarda. Intanto la Juventus chiede Bunino per la seconda squadra Capone da Pilon dopo aver rinnovato il contratto con l'Atalanta. Vediamo altre notizie che riguardano il Pescara e non solo. Domani amichevole dei Biancazzurri al Fadini alle 16.30. E poi Uruguay di Erizalde, KO contro l'Argentina. E poi vediamo il titolo che riguarda proprio l'Avellino. Come dicevamo poc'anzi, Avellino escluso dal campionato. Il Tarboccio è il ricorso degli Irpini. Quasi certi ripescaggi a questo punto di Catania, Novara e Siena. E poi colpo a sorpresa di mercato per il Frosinone che ha acquistato il portiere pescarese Alessandro Iacobucci. Siamo alla pagina di Serie C che riguarda il Teramo. Teramo che questa sera inizia a fare sul serio. Zichella chiede di partire i suoi con il piede giusto. Coppa Italia al Bonolis alle 20.30 arriva alla Fermana. Gomis, KO in porta Vale Vandoschi. Piace e Nacci del Pisa. Vediamo quali potrebbero essere le formazioni che scenderanno in campo questa sera al Bonolis. Teramo 4-3-3 con Levandoschi in porta. Mantini, Altobelli, Speranza e Mastrilli in difesa. Zenuni, Ranieri e De Grazia centro campo. Bacio Terracino, Fratangelo e Di Renzo in attacco. 4-4-1-1 per la Fermana. Ginestra in porta, Clemente, Soprano, Sarzi, Puttini e Guerra in difesa. Zerbo, Grieco, Urbinati e Maurizia centro campo. Da Silva, il trequartista. Cremona, l'unica punta di ruolo. Queste le probabili formazioni di Teramo e Fermana. Prima categoria, ecco i quattro gironi che sono stati comunicati dal comitato regionale della FIGICI. Dilettanti, Pane Cassio lascia Pineto e passa all'Avezzano. Il baby saluta Biancazzurri e torna nella Marsica. Poi Roseto si scalda, siamo al basket, ecco le amichevoli. La prossima settimana il raduno, il 16 settembre, il torneo Lido delle Rose. E poi volley, mezzo secolo di vita. Parliamo del fenomeno impavida. Dalla parrocchia alla due, il dirigente storico Paris ripercorre la storia del club. nato nel 68 con la formazione ortonese che milita, si è cortona, milita nel campionato nazionale di serie A2. Andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero e poi quella del quotidiano La Città. Pescara, Scamacca può andare altrove. L'azzurrino under 19 di proprietà del Sassuolo chiede garanzie sul posto da titolare. Ora difficili, su di lui si è fiondato subito lo Spezia, ma Monachello, Bunino e Cocco. Vanno bene, ricordiamo, l'amichevole di domani pomeriggio alle 16.30 a Giulianoval, Rubens Fadini, con i giallorossi neopromossi in serie D. Vediamo anche il titolo che riguarda l'Avellino, bocciato dal Tar, il Siena vede la serie B. Tornando alla amichevole che Pescara giocherà domani a Giulianoval, leggiamo questo articolo che riguarda anche i giocatori indisponibili, perché sono ancora out nel Pescara-Campagnaro del grosso Marras. Ci sarà, lo dicevamo anche prima, l'esordio di Crecco. Elizalde rientrerà domani dalla Spagna dopo aver salutato il torneo Cotif in semifinale contro l'Argentina. Uruguay, che è stata abbattuta ai rigori per 3 a 1. Sarà disponibile anche per la Coppa Italia, tornerà ad essere disponibile per la Coppa Italia per Rotta, che nella gara con il Pordenone era squalificato e potrebbe esserci l'esordio ufficiale, proprio in una partita vera, in questo caso quella di domenica alle 18 al Marcantonio Bentegodi con il Chievo, proprio per l'ultimo arrivato il centrocampista Crecco. Ma come detto, domani ci sarà questa amichevole che si giocherà alle 16.30, lo stadio Rubens-Fadini, con il Giulianova. Ci saranno le prove generali in vista della gara di domenica contro il Chievo. Parliamo dell'Aquila, l'Aquila che riparte da Pensi e De Paulis. Leggiamo anche questo risvolto dell'articolo. L'imprenditore sarà il riferimento, l'Avvocato, il Presidente, si tenterà la promozione. Anche in questo caso leggiamo la parte iniziale di questo articolo per vedere questa notizia importante che riguarda la rinascita, l'ennesima del calcio rosso-blu, perché ora è ufficiale, oggi nascerà una nuova L'Aquila Calcio, forma societaria e nome da definire, con Ernesto Pensi, socio di riferimento, il contributo di altri tre piccoli imprenditori, non Umberto Fioravanti e Massimo Gizzi. Ci sono però soggetti locali. La Presidenza, affidata all'Avvocato aquilano Marco De Paulis, riferimento diretto dello stesso Pensi, e la guida del settore tecnico a Maurizio Ianni. La risposta definitiva alle sollecitazioni dell'amministrazione comunale è arrivata nel corso di un pranzo, ieri, alla presenza del Vice Sindaco Guido Lirisi e dell'Assessore allo Sport Alessandro Piccinini. Questo è il pezzo importante dell'articolo, perché si tenterà di ripartire dalla promozione. Entro oggi verrà costituita la società e dentro venerdì sarà presentata la domanda di iscrizione. Niente eccellenza, troppo tardi per allestire una squadra credibile. Come ha detto De Paulis, l'interlocuzione con gli organi federali è aperta e positiva. Dunque c'è fiducia per far sì che l'Aquila possa partire, da come leggiamo in questo articolo, dal campionato regionale di promozione. Andiamo a vedere la seconda pagina dello Sport del Messaggero. Partiamo dal volley. Ortona prepara la festa con i giovani e tanti gadget. Domani 50 anni di storia dell'impavida sieco. Sul red carpet, i tanti ex che l'hanno resa grande, abbonamenti low cost e magliette. La famiglia Lanci, tra i protagonisti, tutte le autorità saranno presenti, molti giovani. E ci sarà anche un concerto. Vediamo il basket di Serie A2. Sherrod, il ritorno dello squalo canterino a Roseto. Poi il Teramo, ne abbiamo parlato prima. Notte di Coppa, questa sera contro la Fermana. Zichella, chiaro, voglio vincere in campo alle 20.30. Per i biancorossi è un test molto importante anche in vista del canapionato che, come abbiamo detto anche ieri, potrebbe partire in ritardo. Anzi, partirà con una settimana di ritardo il 2 settembre. Tornando alla gara di questa sera, Lewandowski sostituirà in porta Gomisso infortunato. Niente Tulli, Amadio, Piccioni e Barbuti che non sono al meglio della condizione. Vediamo anche la Serie D. Partiamo dal Real Giulianova. Tre bomber in prova. Oggi gara a Martinsicuro. Domani ci sarà l'amichevole con il Pescara. E poi Vastese, Ecco Ispas e poi Ridolfi. Formazione delle presidente Bolami che continua il rafforzamento della Rosa. Siamo alla pagina dello sport del quotidiano La Città. Esordio in Coppa per il Teramo-Celafermana. Questa sera è biancorossi in campo per la prima ufficiale della stagione. Mister Zichella dice che bisogna dare tutto. Leggiamo anche qui in alto. Maddio non convocato. Il centrocampista come Tulli e Mancini non rientra nei piani dell'allenatore e andrà in tribuna. Zichella aspetta ancora Fiordaliso. È un centrocampista. La scelta è tra Danzo dell'Inter e Nacci del Pisa. Proprio quello di Nacci è il nome nuovo per il mercato del Teramo. Parliamo anche di basket. Del Giulianova Basket in particolare che chiude il discorso under prendendo Maurizio Cantarini. Vediamo in basso un'ultima notizia di sport che arriva da Montorio. Rinasce l'Inter Club dedicato a Peppino Prisco. Alessandro Di Donato Antonio nominato presidente del Circolo. Vediamo anche quest'altra pagina. Lo spazio del Csi a Villa Mosca. Giovani talenti sotto canestro. Siamo davvero giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6. La nostra consueta rassegna stampa che tornerà come sempre domani puntuale alle 8. Io ringrazio voi per averci seguito. Ringrazio Gianluca Fortunato in regia e il prossimo appuntamento con l'informazione della nostra rete. Ve lo ricordo come sempre alle ore 14 per la prima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.